Città di Ariano resta a casa, ben ritrovati per il TG Web, 27 aprile 2020, Covid-19, il rapporto del 26 aprile. 100 i tamponi analizzati ieri dal Moscati di Avellino e 0 positivi. Domenica di Tregua, dunque, i positivi al Covid-19. In provincia restano 440, 52 deceduti, 84 i guariti. Negli ultimi tre giorni ad Ariano Erpino si erano contati 9 casi positivi dopo l'uscita dalla zona rossa. Ariano conta dunque 158 casi, 23 deceduti, 22 guariti. Inoltre, l'ASL di Avellino ha reso noto che a seguito della consegna da parte della Regione Campania di 2.775 test nella giornata di venerdì scorso e di altri 7.800 test nella giornata di sabato, sarà adesso possibile completare l'effettuazione di test rapidi a beneficio di tutte le categorie a rischio individuate dal programma di screening regionale fase 2. In caso di positività al test rapido, il soggetto verrà poi sottoposto a tampone nasofaringeo. Ariano, l'ex sindaco Melito, scrive alla Direzione Generale dell'ASL. Vittorio Melito, già sindaco di Ariano dal 1996 al 2000, ha inviato questa mattina una lettera alla Direzione Generale dell'ASL per conoscenza anche al commissario prefettizio di Ariano Erpino, al prefetto di Avellino e al Presidente della Giunta regionale della Campania. Lettera con la quale l'ex sindaco ricorda che ad oggi ad Ariano si sono verificati, oltre quanto non censito, 159 casi di infezione da Covid-19 con 23 decessi ed un'incidenza in proporzione alla popolazione enormemente più alta rispetto alle medie provinciali, regionali e nazionali, che hanno reso necessario l'applicazione del regime di zona rossa dal 15 marzo al 22 aprile 2020. Ritenuto che la città è stata devastata, ha detto, come dimostrano i numeri e lo stesso regime di zona rossa protratto per 38 giorni, c'era e c'è bisogno di uno sforzo eccezionale per limitare i danni, ripartire in sicurezza e creare le premesse per non ritornare in una situazione analoga di crisi se e quando l'epidemia riprenderà vigore. Il magistrato ha chiesto che si proceda a tamponi nasofaringei su vasti campioni di popolazione per tracciare l'effettiva diffusione del virus e quantificare la presenza nella popolazione di malati, guariti, immuni ed asintomatici. Ha chiesto il ripristino di tutte le unità operative e di servizi dell'ospedale. Adesso non c'è più l'assilo dell'urgenza, ha detto, e se in autunno si dovesse ripresentare l'emergenza, non ci saranno più pretesti per scusare l'approssimazione e la localizzazione delle fonti di contagio in un luogo di cura. Per Ariano l'ospedale deve essere un vanto da difendere con tenacia e determinazione. Lo dobbiamo a chi non ce l'ha fatta, a chi ci lavora, a chi si sta tanto impegnando in questo periodo e a noi stessi, che lì abbiamo trovato e troveremo salvezza. Risposte concrete sono indispensabili se la dirigenza dell'ASL vuole recuperare un minimo di considerazione nella nostra comunità. Ha concluso. Covid-19. Cinque laboratori abilitati per l'esame dei tamponi. In Irpinia sono stati abilitati cinque laboratori per il Covid-19. Accanto all'azienda ospedaliera Moscati salgono a quattro i centri di analisi dei tamponi in provincia di Avellino. Questa è la prima conseguenza della fase 2, riprogrammata dal presidente della regione Campania De Luca e dall'unità di crisi della regione per la realizzazione delle misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Si allenta il lockdown, dunque, in vista di una svolta attesa per il 4 maggio, ma aumentano i tamponi. Fase 2. Conte spiega il piano e le restrizioni. Ha annunciato ieri sera la fase 2 durante la conferenza stampa il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Via libera le visite ai parenti, ma sempre nel rispetto delle distanze di sicurezza e con i dispositivi di sicurezza. Restano i limiti agli spostamenti tra regioni. Si potrà invece correre, ma rispettando la distanza di due metri. Gli allenamenti individuali ripartono il 4 maggio e quelli di squadra il 18 maggio, giorno in cui riaprono anche negozi e musei. Mentre per barbieri, parrucchieri, estetiste, ristoranti e bar bisognerà aspettare il primo giugno. Sono di nuovo consentite le cerimonie funebri, con la partecipazione fino a un massimo di 15 persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando mascherine protettive e rispettando rigorosamente le misure di distanziamento sociale. Consegna a domicilio. Il consigliere regionale Alaia scrive a De Luca La consegna a domicilio, consentita da oggi a ristoranti, pasticcerie e pizzerie, non può essere limitato al solo territorio del comune nel quale opera l'attività. Almeno in Irpinia, che ha tanti piccoli comuni privi di una pizzeria o di un ristorante, non può essere così. È quanto afferma il consigliere regionale Enzo Alaia. L'ordinanza numero 39 del 25 aprile spiega Alaia dà la possibilità alle nostre pizzerie e ai nostri ristoranti di riavviare gradualmente le attività, partendo dalla consegna a domicilio, ma solo nel territorio comunale. Se questo ha un senso nei capoluoghi e nei grandi centri, non lo ha nelle zone interne, caratterizzate dalla presenza di tanti piccoli paesi, molti dei quali privi di ristoranti e pizzerie. Pensioni di maggio. Accredito da oggi 27 aprile. Le pensioni di maggio, così come era successo ad aprile, saranno pagate prima. Come previsto dall'ordinanza numero 652 del 19 marzo 2020 della Protezione Civile, il calendario del pagamento dei trattamenti pensionistici viene anticipato all'ultima settimana del mese precedente. Le somme saranno accreditate su conti e libretti. Per chi non ne usufruisce e dovrà presentarsi agli sportelli, è stato previsto un ordine specifico legato alla lettera iniziale del proprio cognome. Poste Italiane ricorda inoltre che i cittadini di età pari o superiore a 75 anni che percepiscono prestazioni previdenziali presso gli uffici postali che riscuotono normalmente la pensione in contanti possono chiedere di ricevere gratuitamente le somme di denaro presso il loro domicilio delegando al ritiro i carabinieri. Questa era l'ultima notizia. Vi ricordo come sempre che è possibile seguirci sui social, sul canale YouTube, sul sito www.cittadiariano.it Da Valentina Ciccarelli è tutto, vi auguro buon proseguimento di giornata e alla prossima edizione.